C'è stato un altro ritrovamento Delta. Vi ricordate della Indigenous People? È stata una serie di grandissimo successo per molti anni. E questa è la Maya, 2011. Ne sono state ritrovate una manciata, proprio pochissimi pezzi. Tutti pezzi originali, anche il pennino con l'incisione Maya personalizzato. Io tra l'altro non ricordavo questa caratteristica del fusto filettato sul fondello per consentire di avvitare il cappuccio quando si scrive. Comunque ce ne sono pochi pezzi a prezzo scontato. Credo che si esauriranno presto.